in diretta dal pianeta dei liberisti leoni files un podcast dell'istituto bruno leoni di e con carlo amenta serena sileoni e carlo stagnaro allora buongiorno a tutti i cari amici qui dai leoni files a parlarvi e carlo amenta credo ci siano con me sia serena sileoni e carlo stagnaro ma un annuncio importante da fare quindi sarò io ad aprire perché i due miei amici non sono più tali che si sono uniti in una congiura contro di me e per i prossimi mesi probabilmente non sarò più con voi quindi questa è la mia puntata di commiato e i due mi hanno anche detto vai apri tu così saluti tutti quindi ci siete cari ex amici ci siamo beh volevamo darti così un po il contentino lo zuccherino grazie facendo di aprire no sei soddisfatto sono felice sono quasi felice stagnaro invece neanche risponde io ci sono ma stava giuda come giuda volevo farti un regalo buongiorno carlo e per chi suona la campana scusate meno male che non mi guardano perché ho attaccato le mani nei posti diciamo innominabili però va bene così la campana suona morto e suona per me tornerò prima o poi e sappiate quando tornerò diciamo non sarò gentile con voi una voce diversa una voce diversa e forse anche un sesso e forse solo la voce però va bene comunque allora hai visto che abbiamo aperto con il problema con problemi sanitari personali io vi invito a riflettere sul fatto che tra sud e nord tra le tante differenze ci sono c'è anche quella la sanità e quindi io vorrei invitare tutti quelli del nord a venire al sud tutti quelli del sud andare al nord è tutto fare questa muina chi sta sotto va in goppa chi sta al lato va dall'altro lato e fare come ma infatti io io ho un grosso dubbio cioè dai mio figlio appena cominciato le superiore però comincio a ragionare sull'università no e mi stavo interrogando a livello formativo per mai piacerebbe mandarlo a fare un'esperienza all'estero un erasmo del genere io pensavo a foggia io pensavo a foggia però volevo chiedervi se secondo voi può essere una buona idea foggia o se magari appunto non sarebbe meglio catanzaro o potenza sceglierei una meta più esotica tipo palermo catania 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 è fuori da tutti gli erasmus per pericolosità prendo le distanze dal tuo razzismo no 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 un popolo che si va a mettere sotto un vulcano sono due i catanesi e napoletano diciamo quindi adesso adesso comunque commentiamo però questa idea dell'erasmus fatto tra nord e sud non è sbagliata in fondo è discriminatoria sì perché manca il centro è discriminatoria manca il centro beh no quelli di pisa vanno a livorno quelli di livorno vanno a siena io devo dire che l'ho trovata in effetti si imparerebbero lingue nuove anche questo non c'è dubbio l'ho trovata un'idea piuttosto ridicola per un paio di motivi il primo è quello che insomma in un mondo è sempre più globalizzato l'idea che si possono forzare in qualche modo invitare i ragazzi a conoscere città del proprio stesso paese che fortunatamente grazie alla globalizzazione grazie al mercato sono sempre più vicine perché gli aerei sono a basso prezzo e oggi tutte le fasce della popolazione riescono fortunatamente a fare qualche viaggio ogni tanto non sono gli anni 50 quando uno del sud andava al nord a fare il militare e tornava quasi diciamo veramente esotico rispetto agli altri e l'altra idea che mi sembra assurda è che in fondo il leader delle sardine ha detto perché uno del nord non può andare a studiare filosofia archeologia a napoli e uno del sud andare a studiare ingegneria a nord ora io insegno economia la insegno male e faccio schifo però quest'idea che al sud ci stanno i filosofi greci con la toga e al nord ci stanno gli ingegneri come stagnaro anche perché caro se vieni al nord con la toga prendi freddo tra un posto problema non ce l'avo più a quanto pare e quindi posso pure prendere fresco ora sta roba qua dell'erasmus tra nord e sud nasce dalle sardine però nasce in un contesto in un dibattito più ampio che segue la presentazione del del piano per il sud quello che in copertina c'è la trieste no sempre a proposito di scambi culturali nord sud il piano per il sud rappresenta uno statement politico importante per il nuovo governo è una ricetta nuova soprattutto sì sì un po di soldi un po di soldi al sud e vedrai che stavolta va bene però c'è una differenza che abbiamo visto nel dibattito di questi giorni più spesa pubblica al sud attraverso un modello di gestione commissariale il cosiddetto modello genova dove tu dai tutto il potere a uno e quello lì finalmente in grado di dispendere perché il problema italiano è che non siamo capaci di spendere il problema italiano è che finché non succede una tragedia come quella che purtroppo è successo a genova istituzioni mondo politico e trascinata anche la società civile e le imprese non si smuovono questo è il vero problema il modello genova ha funzionato perché c'è stata una terribile tragedia di mezzo e quindi damo se da fa e superiano Demus è da fa da voi sì vedi che l'asileoni dovrebbe venire a fare Erasmus a Genova no ma infatti così preferirei la Sicilia però preferirei la Sicilia ma in realtà al di là delle pagine abbastanza diciamo fuffose su economia circolare e tant'altro che servirebbero al sud a me quello che stupisce effettivamente è proprio quello che state dicendo voi cioè credo che diciamo da mero osservatore delle cose del sud il vero problema del sud al di là degli ultimi anni certamente una riduzione delle risorse ma certamente non se solo paragonata a quelle degli anni precedenti è legata alla capacità di spese all'efficienza che non si ottiene con una gestione commissariale a mio avviso ma probabilmente andando a intaccare a verificare quali sono i problemi fondamentali dei processi burocratici che sicuramente sono inefficienti lo sono di più al sud che al nord no anche un attacco frontale a questo io credo che le risorse purtroppo servono a un po' anzi il mito della gestione commissariale a me fa un po' ridere nel senso che noi siamo un paese che tradizionalmente si è dotato di una burocrazia sovietica sotto cui tutti muoiono soffocati abbiamo improvvisamente scoperto che la burocrazia che l'eccesso di burocrazia può essere un problema improvvisamente ci siamo spostati all'estremo opposto cioè da Mosca a Pechino con l'idea con l'idea che allora dando a un autocrate benintenzionato onesto a Genova per carità è andata bene probabilmente però non è un modello generalizzabile da questo punto di vista chiamando un autocrate dandogli potere discrezionale su tutto affidamenti diretti scelta per nome e cognome delle persone deroga da tutte le norme extrapenali eccetera allora si risolveranno i problemi perdendo di vista che in mezzo tra la burocrazia sovietica e l'autocrazia orientale c'è lo stato di diritto che è quello che grosso modo funziona in tutta la parte di mondo che si è maggiormente sviluppata e in fondo che l'autocrazia non funzioni lo vediamo proprio in queste settimane in Cina nella gestione di quella che è la loro emergenza il loro ponte morandi per così dire cioè l'esplosione del coronavirus che pure coronavirus scusa non ho fatto l'erasmus a Cambridge diciamo io eravamo io Di Maio e Di Battista e parlavamo solo di virus coronavirus eh questo coronavirus che però qualche preoccupazione ce la solleva solleva l'opacità delle fonti e questa è la preoccupazione principale perché poi ora non so se uso il termine corretto comunque di epidemie la storia ne è stata piena anche quella più recentemente la SARS la gestione di questi questi processi di trasmissione su scala globale dei virus si può fare credo immagino nel senso che la scienza per fortuna non è quella dei tempi della della peste o della spagnola però bisogna conoscere i dati cioè bisogna conoscere il virus che tipo di trasmissibilità e purtroppo con un partner opaco come la Cina non ne hai garanzia ma un vecchio amico di Leoni Files cioè l'ex ministro Fioramonti ha detto che il coronavirus è colpa della globalizzazione ha detto virus anche lui e quindi diciamo ci sta che abbia detto che il virus è colpa della globalizzazione una frase piena di senso e di correttezza tra parentesi la storia tra parentesi la storia gli dà ragione perché ad esempio sentivo poco fa che la spagnola nel 1918 ha fatto più morti combinati della prima guerra mondiale della seconda guerra mondiale e non credo nel 1918 la mobilità e la globalizzazione fossero esattamente agli stessi livelli a cui sono oggi quindi Fioramonti si conferma un attento osservatore della realtà e credo che il tro delle minchiate sia un consulente uno dei motivi per cui la demografia nel mondo è esplosa non è tanto perché facciamo abbiamo fatto più figli nell'ultimo secolo è perché siamo morti in misura molto minore perché siamo morti in misura molto minore anche perché grazie alla scienza riusciamo a curarci e a vivere di più e soprattutto a evitare le morti dei bambini piccolissimi quindi pensare che prima si campava a lungo e non esistevano epidemie che invece appunto sono stata una delle piaghe dei secoli scorsi perché non esisteva la globalizzazione è proprio una fandonia almeno del fatto che prima la globalizzazione esisteva ma era una globalizzazione di armi e di esercizi scusate vabbè è una minchiata chiamiamola un suo cognome no però sapete qual è il problema cioè è vero quello che dice Serena sul contributo della scienza e della tecnologia ma da quando anche la scienza e la tecnologia sono state asservite al capitale tutto va a rotoli ecco questo è la colpa è sempre del neoliberismo esatto anche perché diciamo la soluzione effettivamente il miglioramento tecnologico dei farmaci è il fatto straordinario che tutti viviamo fino ad un'età che non potevamo neanche immaginarci almeno io fino a stamattina non so come mi andrà oggi pomeriggio magari verrà smentito immediatamente dai fatti effettivamente è merito di un sistema chiuso vero Carlo e Serena non di un sistema aperto e altamente competitivo ma in effetti sono sicura che Fioramonti guardi con ammirazione e tentativo di emulazione il sistema sanitario cubano che in questi casi viene sempre evocato credo che Di Battista l'abbia anche appunto menzionato più di una volta come un sistema straordinario certo un sistema forse migliore del sistema ecuadoregno non so però dobbiamo dobbiamo guardare dove siamo noi a che punto siamo noi non se nei sistemi chiusi c'è persino qualche bravo medico ma lo hanno scritto anche il ministro per il mezzogiorno provenzano e Emanuele Felice che ha da poco diventato responsabile economico del partito democratico che è tutta colpa del neoliberismo tutto quello che va male al mondo è tutta colpa del neoliberismo è un partito comunista cinese e naturalmente nella logica di Felice Provenzano il partito comunista cinese è un'espressione del neoliberismo ma così non ti frega niente? no 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 non me ne frega niente perché ho deciso che a un certo punto io diciamo alle minchiate sulle minchiate vado oltre e di Dubai che mi dici? di Dubai ho pochissimo da dire perché si gioca bene a gol Felice e Provenzano scrivono che Dubai è anche un'espressione del neoliberismo ah soprattutto la libertà e Putin anche Putin è neoliberista no ma poi posti diciamo dove effettivamente la libertà individuale è rispettata no facciamo al contrario chi è che non lo è? la Cina? chi è che non è liberista? no no la Cina è neoliberista la Cina è neoliberista il capitalismo senza diritti Cuba il grande modello di sviluppo di Cuba Cuba non è neoliberista forse neanche il Venezuela la Corea i paesi scandinavi modello luce faro di tutti i comunisti del mondo voi non lo capite io lo so perché a me non dispiacciono i paesi scandinavi no vabbè però vorrei scandinavi vabbè invece io vorrei riportarvi sul sentiero della serietà so che non è il mio ruolo anzi diciamo questo non mi sta per niente niente da quando vede la fine del tunnel lamenta queste cose esatto vorrei lasciare un'eredità diciamo ha detto una cosa intelligente no invece io vorrei richiamarvi un attimo sulla globalizzazione sul coronavirus e sulla Cina perché effettivamente al di là del fatto che le persone non debbano andare nel panico perché comunque al di là dei nati che sicuramente non sono corretti insomma in qualche modo staremo a vedere se sarà così pericoloso come sembra o lo sarà di meno però in realtà sicuramente è un pericolo per l'economia perché proprio la globalizzazione proprio quelle che Carlo conosce meglio di me e che ci spiegherà a essere le catene globali del valore integrato di produzione creano una sorta di effetto a catena che davvero crea un impatto negativo del coronavirus sul PIL mondiale ah sì perché oggi l'economia mondiale è molto più interdipendente rispetto al passato questa è una delle ragioni per cui a livello globale abbiamo sperimentato quella crescita dell'economia del PIL e del PIL pro capite così impetuose che abbiamo visto negli ultimi decenni naturalmente l'altra faccia della medaglia è che essendo tutti un po' più dipendenti dagli altri quando gli altri si comportano male ne sentiamo gli effetti e ci sono dei costi di aggiustamento infatti la domanda più interessante rispetto al coronavirus è se l'epidemia continuerà e quindi se l'attività economica cinese continuerà a rimanere a livelli molto bassi delle ultime settimane in che modo le imprese che hanno in Cina parte della loro catena produttiva parte dei loro fornittori eccetera in che modo reagiranno e soprattutto se cercheranno un aggiustamento temporaneo contando in qualche maniera di ripristinare lo status quo il prima possibile oppure se gli effetti degli aggiustamenti saranno sperimenti nel qual caso a farne le spese sarà soprattutto la Cina questo è un tema interessante perché vuol dire che chi danneggia gli altri finisce poi per subirne la maggior parte delle conseguenze di lungo termine e quindi potrebbe avere anche un incentivo a comportarsi meglio ad aprirsi un po' di più anche a livello istituzionale no Serena in fondo la globalizzazione aiuta anche a essere un po' più simili nelle cose positive e speriamo questo sarebbe nella difficoltà del momento e anche nel dramma per molte persone del momento sarebbe alla lunga un effetto positivo si impara purtroppo sempre dai propri errori se da questi errori la Cina imparasse che una maggior trasparenza una maggior condivisione della verità dei fatti con gli altri stati beneficia in primo luogo lei stessa tanto meglio e quindi insomma direi che oggi un po' di riflessioni l'abbiamo fatte e nonostante tutto non possiamo che concludere tornando in Italia e pensando alle pinze che Amenta si troverà nella panza per fare una citazione colta tra qualche ora o tra qualche giorno allora io diciamo io sono molto curiosa di sentire la nuova voce di Amenta spero di non avere brutte sorprese no allora ecco con questa puntata testamento io vi saluto ringrazio Carlo e Serena per avermi fatto fuori con me assolutamente assolutamente questo questo sempre perché voi uomini siete tragici diciamo le nostre 27 ascoltatori e allora diciamogli soprattutto all'asta i gioielli di Amenta sempre all'asta all'asta che qualcuno si riprenda vi ho voluto bene grazie ai lettori e grazie a voi due a presto forse ciao ciao